Musica Buongiorno da Teletruria, benvenuti alla rassegna stampa di questo martedì 12 di aprile. Andiamo subito a vedere di cosa parlano le prime pagine dei quotidiani questa mattina. Cominciamo con il Corriere della Sera, la battaglia finale di Mariupol, l'attacco all'Ucraina, i filorussi conquistano il porto, a Kiev migliaia di morti, il cancelliere austriaco intanto ha incontrato Putin, ha detto è stato un incontro duro, non amichevole, il mio messaggio più importante a Putin, ha detto Nehammer, cancelliere austriaco, è stato che questa guerra deve finire perché in un conflitto ci sono solo perdenti da ambedue le parti. Un altro tema sollevato dal cancelliere austriaco è stato quello dei corridoi umanitari che ha detto urgente necessità di aprire prima che le forze russe riprendano l'offensiva nel Donbass. All'interno ovviamente del Corriere della Sera, i vari reportage, racconti dalle città ucraine e le storie come quella di Victoria che vediamo a pagina 7. Per raccontare il controesodo dei rifugiati, la nostra vita è qui in Ucraina, Victoria è appunto tra i rifugiati di ritorno, gente che è stata fuori dall'Ucraina per due, tre settimane o un mese e che adesso rientra in quelle città liberate oppure torna perché semplicemente non ce la fanno più a vivere da profughi in un paese straniero. Tornando alla prima pagina del Corriere della Sera, le elezioni in Francia e quindi l'analisi del voto, i vari approfondimenti e anche l'editoriale di Aldo Cazzullo, decisivi voti di sinistra, Cazzullo ha sentito il direttore di Le Monde. Poi il viaggio di Draghi in Algeria, Draghi firma l'accordo, più gas arriverà appunto dall'Algeria e poi vedremo meglio anche negli altri giornali di che cosa si tratta, intanto Bonomi di Confindustria chiede un tetto al prezzo. Il sindaco Sala, il sindaco di Milano in polemica con il governo dice che non ci ascolta sui fondi e non ho fiducia. Volevo segnalarvi in prima pagina sul Corriere della Sera anche i falsi miti di guerra, l'editoriale di Dacia Maraini che riflette sui dieci luoghi comuni, le false notizie, la propaganda, gli interessi contrastanti, le menzogne, le bufale e chi più ne ha più ne metta, scrive Dacia Maraini. Possiamo provare a sbrogliare qualche matassa partendo dai fatti e quindi interviene su questi dieci cose che si dicono sul conflitto in Ucraina dal fatto di armare gli ucraini che significa incrementare la guerra, dal fatto che dobbiamo stare attenti perché Putin chiuderà i rubinetti del gas e noi dovremmo fare terribili sacrifici oppure quello quando si dice ma invece di fare la guerra perché non create occasioni di confronto e su questo appunto riflette e ci spiega Dacia Maraini. Vi porto poi a pagina 23 per quanto riguarda la vicenda del ricercatore italiano Giulio Regeni dal Cairo c'è un nuovo stop al processo Regeni per l'Egitto, gli 007 sono innocenti, impossibile notificare gli atti agli imputati la famiglia che dice è una presa in giro e chiede l'intervento di Draghi. Passiamo alla prima pagina di Repubblica dove anche qui vediamo con la fotonotizia la resistenza di Mariupol almeno 10.000 civili uccisi nella città sul Mar Dasov che non si piega all'invasione. I russi conquistano il porto, una pioggia di bombe nel Donbass annunciano la nuova offensiva a Est. Gelido, l'incontro come abbiamo visto tra Putin e il premier austriaco, poi anche qui l'accordo con Algeri per avere più gas e diminuire la dipendenza italiana da Mosca, il premier Draghi ha firmato ieri l'intesa in arrivo 9 miliardi di metri cubi in più ma solo dal 2024, il ministro Cingolani ha detto 3 miliardi però arriveranno già da quest'anno. Adesso le prossime tappe per assicurare forniture extra sono quelle in Congo, in Angola e in Mozambico. C'è comunque all'interno il piano B del governo con lo stop al gas russo, i consumi saranno da razionare. Parazzo Chigi studia lo scenario estremo, giù i condizionatori e l'attività industriale che potrebbe essere organizzata a fasce. Poi tornando in prima pagina nella Repubblica volevo segnalarvi anche qui le elezioni in Francia. Macron cerca il voto operaio, Le Pen punta ai populisti, quelle che sono appunto le strategie per la corsa all'Eliseo che è appunto per le quali si tornerà a decidere il prossimo 24 di aprile. Corsa per l'Eliseo come vedete nella prima pagina che divide anche Meloni e Salvini. Vi segnalo le idee. Francesco Piccolo, attore e scrittore che scrive un editoriale in un mondo disumano, non chiedeteci bontà. Lui dice che in un mondo inumano non ci si può chiedere di essere soltanto buoni. Da adesso in poi il compito non è capire perché gli uomini siano capaci di un tale orrore ma come riuscire a farlo terminare. In pratica Francesco Piccolo riflette sull'inutilità del discorso generico e buono partendo proprio da una frase di Italo Calvino. E poi invece Ezio Mauro che scrive quando la stasi scoprì la poesia ma con effetti inattesi sulle spie. Subito dopo la seconda guerra mondiale la polizia segreta della generazione Germania Est costituì un circolo che si occupava di sonetti, di metrica e di terzine. L'obiettivo era migliorare la cultura delle spie ma anche il livello della propaganda, nell'illusione che una metrica regolare e un buon ritmo delle rime avrebbe garantito il controllo dell'intero paese, solo che gli effetti poi non furono proprio quelli sperati. Vi porto all'interno della Repubblica per ricordare la lotta alla pandemia e la decisione di rimanere in classe fino a giugno con la mascherina. Il governo quindi conferma l'obbligo per le scuole, i presidi approvano la linea prudente, è un sacrificio necessario dicono. E poi anche quanto sta succedendo invece in Cina che alza un altro muro, test di massa e viaggi proibiti per i 27 casi a Guangzhou. Dopo Shanghai tocca anche al grande distretto manifatturiero della Cina meridionale e secondo le autorità sanitarie si sta espandendo questa nuova ondata di Omicron che Pechino intende affrontare con misure davvero molto rigide nonostante il numero dei positivi sia assolutamente modesto, soprattutto se parametrato con quelli che si registrano ormai da mesi in Occidente. E poi anche sulla Repubblica il caso Regeni, un altro schiaffo, l'Egitto non collabora, la famiglia chiede l'intervento di Draghi. Vediamo velocemente anche la prima pagina, il QN e la Nazione, anche qui l'apertura sul vertice flop di Putin che attaccherà ancora e la fotonotizia invece che ritrae la campionessa di pallavolo vittima dopo tre anni dello stesso stalker, un impiegato di banca a 55enne di Novara, si chiama Angelo Persico che è stato di nuovo arrestato come tre anni fa con la stessa accusa, stalking e la vittima è Alessia Orro, pallavolista della squadra monzese e della nazionale che dice denunciate sempre da soli è peggio. Andiamo alle cronache locali e siamo sul Corriere di Arezzo e per parlare di alcune delle notizie che trovate oggi all'interno del quotidiano aretino, mi collego con Luca Serafini, redattore del Corriere di Arezzo. Luca buongiorno, benvenuto. Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti i telespettatori. In apertura purtroppo leggiamo di un dell'ennesimo incidente sul lavoro, muore schiacciato dal lastre di vetro e l'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a San Giustino Umbro. Sì, purtroppo un brutto fatto di cronaca, è morto Enzo Boriosi, nativo di Pieve Santo Stefano ma residente a Sansepolcro. Nel servizio di Davide Gambacci, oltre a quanto sappiamo della dinamica dell'incidente, sono cadute delle lastre di vetro che stava movimentando l'uomo e lo hanno schiacciato, non c'è stato nulla da fare. Ecco, oltre a questa dinamica sulla quale sono in corso le indagini, gli accertamenti, c'è un profilo, un primo profilo di questa persona molto conosciuta in Baltiverina, era presidente del Velo Club di Sansepolcro che organizza manifestazioni ciclistiche, è un appassionato di bicicletta, è stato anche candidato in una delle liste alle ultime elezioni a Sansepolcro in appoggio del sindaco Innocenti. Quindi grande dolore, commozione e incredulità a Sansepolcro per la fine terribile di quest'uomo, impegnato anche nel sociale, nel mondo sportivo e nella vita civile di Sansepolcro. Oltre questa notizia tragica alla quale diamo l'apertura, ci occupiamo poi della rotatoria di Via Fiorentina, una ad Arezzo, una opera che stenta a decollare. Adesso c'è un problema in più e ce lo spiega il collega Marco Antonucci con questo focus sulla ricaduta dell'aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime, con addirittura uno sbalzo in avanti dei costi previsti, si parla di un milione in più. Questo comporta un nuovo vertice tra l'amministrazione comunale e la ditta incaricata, i tempi che sono destinati a slittare problematiche in più. Per questo sappiamo essere un punto cruciale della viabilità retina, forse quello più critico rimasto ancora da risolvere. E' atteso anche da tempo Luca, no? Sì, molto tempo. C'è stata una serie di situazioni che non hanno mai fatto partire questo grande cantiere che deve sbrogliare questo intreccio, questo nodo di traffico che è quello sul quale sia i retini ma anche chi arriva ad Arezzo si scontra perennemente. Vedremo che sviluppo avrà questa cosa alla luce degli aumenti delle materie prime che stanno creando difficoltà alla ditta incaricata. Senti Luca, c'è voglia di vacanza a Pasqua? Ve ne occupate? Sì, ci stiamo occupando anche di questo tema, siamo nella settimana santa che segna anche un po' l'inizio dei primi spostamenti. I spostamenti interni sono gli italiani, quelli che arriveranno nel fine settimana ad Arezzo. Con Laura Lodone di Confcommercio facciamo il punto è previsto il tutto esaurito nelle strutture ricettive di Arezzo. Una conferma arriva anche da un'analisi fatta da campeggi.com che rileva come la Toscana sia la meta ideale più scelta in questo periodo, più cliccata per il periodo pasquale e del 25 aprile con Firenze ed Arezzo che tirano un po' il gruppo. Quindi buone notizie per il turismo, sappiamo quanto ha sofferto e quanto può dare. Tant'è che sta partendo proprio in questi giorni una campagna promozionale in più portata avanti dalla Fondazione InTour che ha lanciato un nuovo video molto bello per promuovere l'outdoor ad Arezzo, quindi questa voglia di scoprire i nostri territori. Senti Luca, per concludere velocemente nella fotonotizia della prima pagina vediamo la storia della professoressa che ha cominciato la sua esperienza all'Università Aretina, fuggita dalla guerra in segna russo e ucraino. Esatto, è una bella foto del nostro fotografo Alessandro Falzetti, davvero una foto che parla sullo sfondo questo paese martoriato dalla guerra, questo mezzo sorriso della professoressa Giulia che ieri è stata presentata al campus del Pionta, insegnerà russo e ucraino, ha tenuto già la prima lezione e speriamo che questo sia di buon auspicio sia per lei ma ovviamente per tutta la situazione internazionale. Un'ultima battuta Gloria, oggi è la festa della Polizia, ci occupiamo ovviamente anche di questo, è il 170esimo anniversario e in Piazza Grande alle 11 la città si stringe proprio intorno alle divise che tanto si impegnano per il bene comune. Grazie, grazie a Luca Serafini, redattore del Corriere di Arezzo, di essere stato con noi. Grazie, buon lavoro. Buon giornata a tutti. Continuiamo con la nostra rassegna stampa e andiamo alla prima pagina della Nazione di Arezzo, in apertura anche qui ritroviamo l'incidente sul lavoro di cui abbiamo appena parlato anche con Serafini, muore schiacciato dal vetro blindato la tragedia sul lavoro, due pesanti lastre lo hanno travolto in azienda disperata alla corsa dei colleghi per salvarlo. la fotonotizia è dedicata alla calata dei tavolini, la ZTL perché da venerdì, dalle 19 di venerdì tornerà la ZTL del weekend, in corso le richieste di suolo pubblico allo studio deroghe su sosta e ingressi. Quindi si ricompone da venerdì sera la città dei tavolini all'aperto sparsi in tutto il centro storico, ma non solo. Poi in prima pagina, in taglio alto, si drogano di mattina al parco giotto tra mamme e bambini. Dopo il pionte campo di Marte allarme e degrado in uno dei quartieri residenziali della città, ritrovo di mamme e bambini. Ricorderete anche nei giorni scorsi l'arresto avvenuto di uno spacciatore in bicicletta che era stato bloccato nei vialetti proprio dalla polizia. Poi sulla conferma di Durso alla ASL di Arezzo, Lucia Tanti chiede un nome a retino nella squadra di Durso. C'è il botte risposta tra Palazzo Cavallo e il PD sul futuro della sanità retina dopo questa decisione arrivata dal governatore della Toscana di confermare Antonio Durso come direttore generale. Ceccherelli e De Robertis che dicono c'è una legge da rispettare. Passiamo all'home page della testata giornalistica online Arezzo Notizie. Anche qui ritroviamo la tragedia sul lavoro, muore schiacciato da lastre di vetro Enzo Boriosi, aveva 65 anni. Ancora la cronaca, prima la picchia davanti a tutti, poi le punta il coltello alla gola, è stato arrestato. Tutto sarebbe iniziato da un banale litigio, si legge nell'articolo. Degenerato in un'aggressione in piena regola, il responsabile, un 35enne, è stato arrestato dai carabinieri di Montevarchi. Anche su Arezzo notizie, la conferma di Durso all'Asl sud-est con Lucia Tanti, pronti i nomi, le altre nomine devono rispettare anche Arezzo, dice il vice sindaco Aretino. Passiamo alla prima pagina del Corriere Fiorentino dove fa discutere, diventa un caso diplomatico quanto successo al venditore ambulante senegalese vicino a Pontevecchio che è stato placato dai vigili urbani. L'ambasciatore del Senegal sul fermo del ragazzo ha detto che è un fatto inumano, di una gravità estrema. Ci si occupa anche, sulla prima pagina del Corriere Fiorentino, di decoro, ricordando come il capoluogo Veneto stia tentando una svolta bloccando i negozi di Paccottiglia, Venezia più severa di Firenze. Poi c'è un altro fatto di cronaca avvenuto a Castiglioncello, una Molotov nella notte contro la villa del costruttore russo. Se ne ha parlato in questi giorni con il caso del Lago dei Cigni fermato da Kiev e la compagnia di balletto ucraina si scusa in programma il loro spettacolo questa sera alla Tuscany Hall. Velocemente in prima pagina su Repubblica, anche qui ritroviamo la Molotov contro la villa di proprietà russa avvenuto a Castiglioncello e anche qui ritroviamo il fatto dell'ambasciatore senegalese che accusa i vigili in Ardella che dice faremo un'inchiesta. Il PD boccia la base militare a Coltano, scelta sbagliata, è il progetto di creare una megabase dei carabinieri dentro l'area protetta di San Rossore Massaciuccoli, un fatto che senz'altro farà discutere e con questo noi concludiamo la nostra rassegna stampa questa mattina. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata, vi do appuntamento a domani. Grazie.